Allora mi raccomando ragazzi c'è da costruire il dungeon, il subchef lasciatemelo sulla stanza insieme al blob gelatinoso che tanto poi si assomigliano perché fondamentalmente manco se riconoscono, le trappole le voglio esattamente su quella stanza lì e soprattutto oggi giochiamo a Storm Spine Architects della Thunderworks Games, la stessa casa editrice di roleplayer perché questo è un gioco ispirato proprio al mondo di roleplayer, ma questa volta il subchef siamo degli architetti perché noi ci piacciono gli architetti, dobbiamo costruire il nostro dungeon, ma il dungeon deve essere fatto in un certo modo, per cui abbiamo a disposizione la nostra carta che praticamente è il nostro progetto, dovremmo cercare di rispettare per fare più punti ve lo faccio vedere in dettaglio, ma poi è possibile anche upgradarlo chiaramente con le carte che abbiamo a disposizione attraverso il draft andremo a posizionare 4 stanze su 4 livelli, per cui in totale 16 carte e quello è il nostro dungeon, ma possiamo fare i punti in molti modi diversi, per cui attraverso le carte sfida, attraverso la carta questa generale, diciamo le ultime partite che chi ha meno tesori sul dungeon si prende una sbraggiata dei punti, però anche collegando le uscite, praticamente dall'entrata all'uscita si sono collegate bene, insomma facciamo anche i punti in quel modo, molto molto carino, per cui ci sono un sacco di mostri, ci sono un sacco di trappole e dobbiamo rendere il nostro dungeon il più cattivo e il più inaccessibile possibile, lo scopriremo ovviamente subito dopo la sigla, con Storm Spy Architels! Eccoci tornati, caro subchef, iniziamo a costruire il nostro dungeon, gioco veramente delizioso, l'abbiamo già provato, ci è piaciuto tantissimo, abbiamo deciso di portarlo sul canale perché tra l'altro è una novità assoluta, che peraltro lo trovate se volete da Christian, DLS Gocchi, ciao Cri, lo trovate in esclusiva, attualmente c'è da solo Christian e tra le altre cose, prima di iniziare col gameplay, se l'avete ancora fatto, brutti minotauri che non siete altro, architetti che non siete altro, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche e se volete supportarci, offrirci un caffè potete farlo grazie all'abbonamento su YouTube, bravo, era più facile di quanto pensavo insomma, allora subchef abbiamo 5 carte a disposizione, queste carte dobbiamo gestirle per costruire una delle stanze che vogliamo sopra e poi dopo ovviamente fare la prima fila del dungeon e poi scenderemo nelle file successive, ogni 4 carte andiamo praticamente a rifillare, andiamo a ricontrollare praticamente le carte, quelle che ci danno punti a fine partita e si continua così per 4 turni, poi c'è la fase mercato dove con le monete guadagnate col piazzamento delle carte del dungeon, poi lo vediamo a fine turno, possiamo andare a recuperare cose da mettere nel dungeon, che possono essere mostri, tesori, trappole, punti di reputazione, punti di reputazione, e tutto di più insomma, per cui punti di reputazione che possono essere positivi o negativi in base a come dice, per cui dai iniziamo immediatamente iniziamo allora, se non ci perdiamo in chiacchiere, perché il dungeon ci aspetta comboldo pelato, vediamo un po', brutto raffagano radiattivo fosforescente vediamo un po' io il mio progettino come deve essere fatto mazza brutta questa raga, allora, chiaramente io devo rispettare determinate regole, adesso vi faccio vedere la carta in dettaglio, anche se l'ho fatta vedere prima, se riesco a piazzare i mostri o le carte, ci sono le carte cava, ci sono anche le carte torre, diciamo così se riesco a rispettare quel piazzamento e riesco a rispettarlo tutto, a fine partita avrò un botto dei punti in più, non è sempre facile farlo, però chiaramente cerchiamo di puntarci, perché logicamente, poi molto importanti sono anche i soldi che ci sono sulle carte, le faccio vedere una in dettaglio, perché quelli poi ci permettono di andarle a spendere alla fine del tour e fare acquisti, io mi gioco questa, aspetta che io la devo ancora, ah scusi, tu gioca, io mi gioco questa, io sto scegliendo, sto scegliendo, io mi gioco questa, ok, vai, 1, 2, 3, stella, io mi gioco questa che c'ho un comoldo e c'ho anche uno slime, io c'ho l'ossuario, c'ho un, come si chiama lui, un cubo slidenoso con le ossa, io c'ho l'antichamber, io devo costruire, devo, diciamo devo, il mio progetto dice che devo costruire un dungeon per lo più di cava, esatto, io invece c'ho un dungeon per lo più di pietra, quindi già sarà tosta, poi dopo chiaramente se riusciamo a collegare anche le vie di accesso, le vie di accesso, sono punti in più a fine partita, perché il dungeon vuol dire che è più versatile e se riusciamo a non chiuderlo troppo facciamo un più punto, adesso c'è il draft, draft per qui, ah no, uno la metti e uno la scartiamo perché stiamo giocando in due, è il classico draft, perché se no cercheremo di scartare quella che può servire anche al nostro avversario, al sub, che però fondamentalmente in questo momento, io scarto questa, io scarto questa, per qui ci scambiamo le carte, ne peschiamo un'altra, io ero il primo giocatore, inizio io, scelto a caso, ovviamente, what's American boys, questa è brutta ma bella, questa è brutta ma bella, però, brutti in bruttine proprio, eh, brutti in bruttine, sì, ok, e io mi vado a giocare questo, tutto, tutto su me, e mi gioco il decrepit all, che mi da 5 monete, però c'ho un meno uno sulla reputazione a fine partita, non male, non malo, ok, poi scartiamo, che scartiamo? che scartiamo? io scarto questa, scartiamo questa, ci scambiamo le cards, poi i toni sono anche abbastanza veloci, per cui, e ripeschiamo un'altra cartola, what's American boys, disse quello, mica male questa, mica male, disse what's America quello, no? mica male, ho una quantità di coboldi impressionanti, ho solo coboldi praticamente, un coboldo là e un coboldo qua, un coboldo qua e un coboldo là, per cui questa praticamente, poi la carta ti dà le porte, questa è considerata tipo porta? sì, certo, qui dice che la porta verso l'uscita, for each door or secret passage, per cui questa è una door che va verso l'esterno, esatto, molto molto bene, una door, molto, una back door, e però, ah, una ce l'hai già una, una ce l'ho là, ok, vabbè, io sono un raffagano radiattivo fosfore, questa è bella però, devo essere fortunato, ok, mi gioco questa qua, mi gioco la gatehouse, io mi gioco crockhead, crockhead pot, crockhead pot, poi scartiamo questa, che mi gioco mo? bella domanda bella domanda, bella domanda, che la risposta, ma la risposta non ce l'avremo mai, ok, pesco io, peschi tu, che pesco io, ah però, pazzo pepper, eh, quella là è tosta, eh, quella là che ti ho lasciato, però, c'hanno almeno tre punti bruttarello, eh, lo so, bruttarello, otto punti, otto soldi, è una penalità di tre, infatti era bruttarello assai, sono mica così pazzo, ma io gioco questa, che mi gioco il corridoio, uh, ma tutto attaccato, guarda che ero betta, eh, preciso, tutto il condominio, il primo piano del condominio dungeon, tutto attaccato, tutto aperto, questa si scala, sono belle entrambe, ma, ma, prendo questa, ok, come vedete abbiamo finito il nostro primo livello del dungeon, come vedete per esempio qua c'ho due covoldi, un covoldi con lo slime, il blob con lo slime, qui c'ho un punto negativo, però, sono riuscito a collegare, come vedete, tutte le stanze molto belle, è collegato molto bene, io ho un po' meno, aiuta, questa cosa, aiuta, ok, allora andiamo a controllare quanto abbiamo monetizzato, con la costruzione della prima parte del dungeon, esatto, io ho monetizzato esattamente 5, 5, 10, 12, io 6 e 3, 9 e 5, 11, senti, no, ma che conti fa, 6 e 5, 11 e 3, 14 e 2, 16, quindi io, più uno che c'avevo, perché il primo giocatore, guarda io, c'è già 7, c'è già 7, e tu hai fatto? Io c'ho 12, quindi sta a me, sta a te, e poi decide come investire il tuo capitale monetario esatto, acquistando dal mercato, tesoretti che ti davano un puntino in più, non ce l'abbiamo nessuno, no, anche perché qui ce ne devi meno, è certo, è certo, è certo, allora, trappole diverse, io qui ce n'ho solo una, quelle se abbiamo esterni, è un trappolone, una se ne può prendere questa, ah no, prima dove ne prendete queste qua, quando uno non può o non vuole più prendere niente, va automaticamente a 0, e pesca la carta, e diventa primo giocatore, in quel caso, a Londra, io vado con, questo è brutto, quello scrignetto bruttarello, eh lo scrignetto, eh sì perché, troppi tesori sul dungeon, all'inizio ci abbiamo uno, io faccio in questa maniera, spendo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi prendo questa, e uno scrignetto bruttarello, che però vanno piazzati obbligatoriamente, ah proprio in quel momento, per forza, quindi mi metto questo qua, e un tesoretto qua, che faranno sempre punti oro, tutte le volte che costruiremo il danno, quello mi darà sempre un punto in più, un punto in più, è sempre un punto in più, però, come oro parlo, come oro, tocca a te, perché ora sei quello che ha più oro, allora, io potrei anche investire, su un blob, un blob, sperando che poi magari venga qualche carta che mi faccia fare i punti, giusto, 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 il blob già ce l'ho, o potrei anche io fare la stessa cosa, perché comunque avere un punto in più, spendendo 7, non è male, e tra l'altro c'è avrei anche una gelatina, una gelatina, insomma, lo slime, lo slime, allora facciamo così, spendo anche io 7, per cui, 5, 8, 5, 6, 7, vado a 5, e mi vado a prendere lo slime e il tesoretto, il tesoretto a sto punto, lo metto, lo metto, mi cambia poco, per cui ce lo mettiamo qua, protetto i due cobaldi, e lo slime me lo vado a mettere qua, chiaramente la possibilità di incastro è che abbiamo i 4 angoli del dungeon, possiamo piazzare le cose fino a coprire il massimo i 4, qui per esempio c'è almeno uno, non ci posso mettere niente, ok? Ora sta a me, perché ho più oro, quindi in teoria, anche se ne prendo uno, ridoccherebbe sempre a me, quindi a sto punto spendo 3, e tocca sempre a me, perché so comunque che ho più oro, e lo metto, e prendi il gelatino, magari lo metto qua, sta ancora a me, e decido che non voglio prendere più niente, quindi torno a 0 automatico, e praticamente passo in testa, ok, cioè il passo in testa, diventi il prossimo giocatore, ok, se vuoi poi, comunque acquista 3, volendo, tanto poi comunque i soldi alla fine vanno via tutti, quando uno passa vanno via 3, spendo 3, mi prendo anche io il cubo gelatinoso, magari quelle carte congelate non ne riesce mancuna, no, sarebbe male, intanto è il solito, e me lo vado a posizionare, vabbè, famo un cubo gelatinoso per stanza, me lo posiziono qua, così almeno, adesso, ok, il primo è passato, poi passi pure tutto, per forza, per passato, io devo scegliere una carta di queste, e me prendo questa, con le trappole, facciamola vedere in dettaglio, praticamente questa dà 3 punti di reputazione, a fine partita, per ogni trappola unica, io al momento ne ho 2 diverse, perché c'ha il bracere, il fuoco e gli spuntoni, le trappole sono 1, 2, 3, 4, 5, ma in totale, quindi potrei fare 15 punti, bravo, io potrei anche investire in questa, perché uno ce l'hai, uno ce l'ho, perché sulle porte aperte verso l'esterno mi darebbero questa ancora, diciamo che da adesso in poi potrebbe essere utile, però diciamo che mi prendo questa e vado ovviamente a sfruttare questa, perché potrei monetizzare, e me la metto qua da una parte, così almeno ce l'ho e sto tranquillo, ok? Adesso? Questa si scarta, se non sbaglio. Si scarta queste, se scartano anche queste. Questa si scarta. Si scartano anche loro. Yes. Se ne mettono 2 nuove. Ok. Con costi diversi, come vedete. E se ne mettono le cose che stanno qua. I rispettivi fregni. Fregni. Ah, questo è. Ah, un goblinetto. Un goblin. Passaggio segreto che so boni. Eh, passaggio segreto buono, buono il passaggio segreto. Basta, mo' servono quelli, questi qua. Quelli quadrati. Uno qui, un'altra trappolozza che è buona. Un'altra trappolozza, eh, ci credo. E me è buona. Ci credo. Un'altra trappola che è uguale. E mo' quelli piccolini. Qui che c'è? Lo slime. Uno slime. Vediamo altri due casi che escono. Un tesoro. Ma è un punto reputazione. È un punto reputazione. Che male non fa. E mo' se girano tre. Se ne filano le nuove tre carte. Uno. Ah, minion horde. Se abbiamo quello, quello, quello. All'interno delle quattro stazze centrali. Per ogni koboldo, goblin o gnol che abbiamo all'interno, guadagniamo un punto reputazione. Ma potremmo già. Ci dobbiamo iniziare a lavorare. Questa, ah, questa è una meraviglia da me. Questa è quattro punti di reputazione. Se fai o una fila così, o una fila così, con tutte le stanze dello stesso tipo. Che è chiamato cluster. Cluster. O tutta cava, o tutta cava, o tutta... Quest'altro, kobold formation. Formazione koboldi. Vedi, tre reputazioni per ogni koboldo in una singola colonna di stanze nel tuo dangere. Ok, per cui devo fare tutti i koboldi in fila. Eh, qua diciamo che già ci puoi cominciare. Eh, sì, però non è facile. Non è facile. Non è facile. Non è facile. Ok, andiamo a ridarci cinque carte per uno. Il primo lo so io. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ok. Yes. Cinque, yes. Però primo sei tu ad iniziare. In realtà, giusto. Gioco simultaneamente. Ok, ora fammi vedere come devo lavorare con questa questione. Eh, brutta, 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 brutta. Il fatto è che mo' sti scrignetti, a fine cosa c'è, bene, è un problema. È un problema. È un problema grosso. È un grosso problema. Koboldi? Io qua c'ho solo un ognolo. Koboldi proprio non ce lo manco. Un ognolo? L'ognolo, quello. Eh, questa è bella, però, eh. Questa è its beautiful card. Prima se la metto questa. Vedi beautiful card, però. Me gioco lei e poi che cosa scarto? Però? Però? Però. Io mi giocherai questa qua. Che però non mi aiuta particolarmente. Mi piace perché è bruttadella. E poi dopo vediamo come me la son giocata e che cosa prende eventualmente. Roboldi non ce ne ho manco uno. Perché questa è a zero, capito? Vabbè. A zero, capito? Zero, capito? Capito? Però io mi gioco questa. Sono già pronto. Ecco, anch'io. Un ognuno, ti fai? E mi gioco la cash. E come vedete. C'ho un punto di reputazione, ma c'ho anche lo schegnetto. Come vedete, vanno coperti i soldi di prima. Perché adesso si utilizzano solo quelli della seconda mandata. E ora dobbiamo scartarne una. Eh yes, per forza. Questa la scarto. Vai. Giro. Pesca, perché sei tu il primo giocatore. Azzo, che cartacce, sceffo. Ho capito. Che mesi dato. Insomma. A sto punto metto questa. Brutta, eh? Brutta, brutta, brutta. A sto punto metto questa. Ma davvero, eh. Sub. Cioè. Però. A sto punto lo metto questa. Certo, sì. Ma hai dato delle carte orripilanti, devo dire, insomma. Com'è non ce n'è manco uno. Però. Mazzò, ragazzi. Cioè, peggiori così, solo... Io mi gioco questa. Certo, ma serve un passaggio segreto, però. Porco mondo. Peggiori così, il nulla. Cosmico. Il nulla cosmico. Vabbè, famo così. Mettiamo questa. Che tenevo lì qua. Tanto scrociamo come se non c'è fosse in domani. Messa. E mi metto questa. Aia, con queste junction che c'hai, che sei vada per tutto a te, eh. Hort & Kors. Hort & Kors. Sassazio. Mo' scarto questa. Giustamente, mo' io non devo... Sì, ma capito, 0-0. Cioè, al prossimo turno monetizzo sta città. Mo' leggo questo qua. Poi adesso il capoarchitetto, adesso, nella mia, prende a scorse, capito? Scarto questa. Mi dice, ma se posso sapere che stai a combinà a chef? Mi piace a te? Ma se posso sapere che stai a combinà a chef? Ma se posso sapere che stai a combinà a chef? A chef. Eh, questa è utile. Questa mi piace. Questa è utile. Questa non ci penso manco due volte. Questa mi pase. Questa non ci penso manco due volte. Ma pure questa è bellina, però, eh. Io mi gioco questa. Penso manco due volte. Mi gioco questa. Anche se mi sono bruciato lì, qualcosa. Che carta me devo piacere. Vabbè, io mi gioco questa, invece. Questa è bella. Ma. È bellina. Diciamo che mi aiuta. E se ne scarta una, mo' però. Mo' se ne scarta una. Bella atmosfera. L'atmosfera, questa sera. Allora, tanto c'è niente. Vabbè, scarto questa. A questo punto, tanto gli può andare bene a lui. Uno all'altra, questa. Ok. Vai, pesca. Una pescola. Arca, peppola. Vai, vai, vai. Bella. Arca, peppola. Bella. Arca e anche peppola. Bella, insomma, relativamente. Però ma manco male. Ma manco male. Allora, una, due, tre. Ma manco male. Io mi gioco questa. Per dire, eccola qua. Pensa che sto a fare un conto tecnico, tattico. Un tempo. Io comunque la mia l'ho giocata. E' giocato il Foundry. 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 A sto point ne metto questa. Ok. E questa la scartiamo. E questa si scartiamo. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Abbiamo costituito anche il secondo piano del dungeon. Oh, yes. Che non è, ovviamente, il bolt e il fallout, ma semplicemente un dungeon bello corposo, pieno di bestie. Corpulento. Io ho quattro. Io ho tre, tre, sei, sette, otto. Ma tu c'hai quattro, no? Sì, io sono andato a risparmio sto giro. Però c'hai queste che fanno punti a te, eh? Eh beh, sono tre punti e tre punti. E tre punti. E tre punti. Ma nove punti io l'ho... Adesso io ho otto. Che me conviene prendere? Perché io qua già ho una, due, tre, quattro diverse su cinque e già sono a dodici punti, eh? Attenzione. Sì. Perché sono tutte diverse. Me ne mancherebbe un'altra. Non fa una piega. Che ora non c'è, però. Non fa una piega. Il problema è che un passaggio segreto mi può servire, ma mi metto questa in più a brullo. Cioè il passaggio segreto non potrei comunque mai acquistare nella vita. Io ho... Non manco io che costa nove. Porca mia triaccia. Io ho quattro. Perché costa... Cioè io in realtà potrei acquistare solo una trappola, ma mi serve un... Un trappolozzo così. Così. Un trappolozzo a rava. A rava? A rava. Quelli che mi servono, giusto per dopo, magari un golbrino qua, però mi dovrei prendere quella carta. Un golbrino qua, un golbrino là. Un golbrino faceva comodo, effettivamente. Questo... Io con questo ne acquisterei un altro. Però la scioccia fa guarda quanti se ne è messi, già tanto. De questi. Che qui non resti mai meno. Già te ne sei messi troppi. Ma questi non mi davano altri due punti, vero? Tre punti? Certo che ti li danno. Ah, io non li sono contati. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto allora. Io l'ho a tre, tre, sei, sette, otto, nove. Io ho otto allora. E io nove. Cioè nove. Ecco. Perché non ne ero contato. Quelli devi contarsi. Uno, due, tre, quattro, sì. Tre, una, quattro, quattro, otto. Io quello di prima... Non c'eravamo contati i punti dei forzeri. Che questi ora servono per... Allora, è una rottura di scatole a fine partita perché chi c'è ne di più se più ha meno punti. In questo caso sì. Però durante la partita aiutano a fare... Però aiutano. Aiutano a fare moneta. Quindi già adesso... A sto punto, siccome ho nove, e io quel passaggino segreto mi farebbe molto comodo di sequertale, no? E me lo prendo con nove. Questa magari no, ma questo sì. Ok. E vado a zero automatico. Quindi io praticamente rimango primo giocatore. Eh sì. Mi sono andato a zero diretto. Eh sì. Me lo metto uno qua sotto. Allora, questi sono collegati. Questi pure. Questo no. Ma ora li posso collegare. In buona sostanza, vedi? Sì. Sono collegati. E questa è una trappolazza in più che... Un fravello e una vella. Che nel conteggio non mi fa nulla, ma me la metto qua, va. Qui. Ok. Io invece spendo i miei sette, per cui vado a uno. Fatto. Per prendermi il goblin e lo slime. Yes. Il goblin, come vedete qua dalla mia carta, non ce l'avevo e mi poteva servire. Per cui me lo vado a posizionare qua, che mi aiuta. Buono. Io invece questo lo ho fatto. E poi c'ho uno slimeettino. No, che stupido. Lo slimeettino che in questo momento non è che mi aiuta particolarmente, per cui me lo vorrò a mettere qua. Veramente stupido. Ok. Dopo lo devo prendere a forza. Se esci. Va buon. Ho fatto una stupidata da terribile. Per cui? Io c'ho ancora uno da spendere. Uno? Eh, ma non puoi spendere niente. Non posso spendere niente, per cui torno a zero. Quindi il primo sono sempre io e tu sei secondo, un buono. Quindi devo scegliere prima io. Ok. Allora, che cosa fare? Perché a sto punto io forse proverei ad andare in questa cosa. Eh, la volevo prendere io. Qua no, ma qua e qua potrei riuscirci. Eh, pensa che io c'avevo già una bella fila qua. Eh, purtroppo. Io su due colonne ho detto che qua già me si sono sfasate, ma magari otto punti riesco a farli. Vedi, iniziare per primo aiuta. Eh, potrebbe darla, sì. Il problema è che adesso i cobaldi in fila io non ci riuscirò mai a fatterli. Eh, su tutto quattro colonne no? Eh, hai capito? Questo dovresti punto a fare. Eh, capirai. Un punto. Però già qua c'è. Qui e quelle dopo. Eh, sì, ma è tosta, eh. È tostissima. Lo mettevo qui, mannaggia la miseriaccia. Per cui tre, 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 tre cobolla. A meno che qui non ce lo posso comunque più mettere in cobolla perché c'ho la stanza impegnata. Sembra che sei ricapitato. Eh, o investo in coboldo perché poi sono tre punti per ogni fila coi coboldi. O sono tre punti a coboldo, no? Sono tre punti per ogni fila. In tutta la fila, sì. Eh, a sto punto, dai, mi prendo questa e investiamo in questa. Speriamo bene. Allora, questo si scartano. Ok. Questa si scarta. Queste si rifillano. Rifillano. Queste pure. Per cui lo gnoll. Eh, come quello tuo però con gnoll. Questo è gnoll più gnoll. Che è tre reputazioni per ogni coppia di gnoll. Che è un gnoll. Che è un gnoll. Che è un gnoll. Eh, tu, vabbè, io gnoll. Una già ce l'ho. Una già ce l'ho. Volendo sì. Allora, rigiro questi. Sì. Io intanto vado. Andiamo al terzo round, giusto? Quindi dopo non verrà girato nulla. Perché ne dovranno. All'ultimo anno. Al terzo anno, diciamo così. Sono tre anni di costruzioni. Tre anni di disagi. Allora, vediamo. Ora devo girare questo. E c'è uno. Dice che c'è sempre uno. Che fa? C'è sempre uno, insomma, pelato. Con la barba che sta sempre lì, così. Fisso. Guarda i cartieri del dungeon. Dicono che sia lo chef. Una monedina. Brutti. Brutti, brutti. E insomma. Uno slime. Questa volta, chef, tutti questi slime e cose non è nascita la carta. Guarda che cosa. Cioè, l'altra volta c'è un sordo. Un mila slime, era uscita la carta con lo slime. Ma stavolta non è nascita. Guarda i slime che ci stanno, guarda. Non arriva lo slime. Manco se li parli. Manco se mori. Eh, poca roba oggi. Poca, poca roba. Però, forza. E poi questo qua. Dove sta? Ah, doppio schigno, ragazzi. Bruttina questa. Ah, bruttino, doppio schigno. Questo e poi quell'altro. Brutto schieno, brutta brutta. Questo qua sotto che scappa. Un'altra trappolozza. E quella che praticamente manca non c'è. Madonna. Spero che mi arrivi in qualche carta così... Veronica Luisa Cicconi. Vero? Madonna. Madonna. Allora, io direi che... Ah, c'è un ognolo. Un ognolo. Eh, l'ognolo... No, l'ognolo non ci faccio niente. Ok. Anzi, no, in realtà ci potrei anche fare quello. Si può cominciare... Ah, anci lì. Si può cominciare. Io direi che... Fammi vedere bene qua che tu sei un disgraziato. Ma insomma, mica tanto. Niente, quel trappolozzo ancora non entra, eh. Brutti. Brutti, brutti. Brutta questa però, eh. Allora, qui come devo posizionarmeli i signori qua? Ma, brutta, sta a cercare una mano di dungeon che fa veramente schifio? Questo no. Fa veramente schifio? Ah, io andrei al lato con questo. Però questi sono buoni, capito? Perché sono molto buoni. Ci sta e ci metto questa. Sono molto buoni. Io mi metto l'oratorio. L'oratorio? Proprio da me l'oratorio, proprio. Però non c'ho i mostri. Proprio da me l'oratorio. Proprio il discorso. Non ci sono i mostri che servono. Anzi, scusa. Comito brutti? E qua l'oratorio. 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 Però lì non è che mi piace tanto, eh. Non è che sia proprio... No. Bella atmosfera. Fa schifo l'oratorio. Brutt, schifo. Questa è brutta. Mi tocca metterla lì. Purtroppo poi mi docca comprare. E' brutta l'oratorio lì, eh. Ma brutto, brutto, brutto. Se no lo mette qua. Ma lì sto a fare questo. Brutto, brutto, brutto. Lo mette qua. Non ce può stare. Madonna, guarda che roba. Brutta sta mano di carta, Angelina. Dici? Non mi ero accorto, sai? Non mi ero accorto, sai? Non mi ero proprio accorto, sai? Ci metto questa, anche se non mi fa impazzire. Mi fa impazzire? No. Ma guardate che sfiga. Vabbè, ci metto questa. C'è, metto questa. Yeah, 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 yeah. Io continuo a investire... I slime. I slime, i cubi gelatinosi. Continuo a investire su cubi gelatinosi. Gelatina come se piovesse. Se cubi gelatinosi verde mi piace. C'è questo suo, c'è il suo perché. Gelatina come se piovesse. E questa a scatto. Questa gli potrebbe far comodo. A quel disgraziato. E di fatti gliela levo. Bravo, grazie. Molto gentile. Vai, pesca. Pesca seroli? Yes. Vai. Oh, buona me. Non gestiva. I cubi gelatinosi come se non ci fosse domani. Come se piovesse. Posso fare così. Però non si collega a brutti. Brutti da Fagani. Brutti, brutti, brutti. Non si collega. Però già mi da un po' stracciato. Che ce deve stare. E a sto punto faccio così, regà. A sto point. A sto point. Al momento è comunque chiuso a se stesso. A sto punto, come si dice. Che brutta corsa. Una giornata e ultima, brutta corsa. A sto punto chiudo qui e buona notte al secchio. Tanto qui è tutto diverso ormai. Ok, io mi gioco questo che è l'auditorium. Che mi chiede più. Un altro auditorium che ho mostri. Che brutti. Se no me lo devo mettere qua. C'ho un po' di raffagani. Non c'entra nulla lì. Allora, ma semmai aspettiamo un attimo. Aspettiamo un atomo e mettiamo questo. Un atomo. Però se poi se ne va. Se poi se ne va. Tento la sorte. Metto questa qua. Cofferts. Ci provi? E scarto una cartola. Eh sì. Scarto una cartola. Scarto questa. Scarta una carta. Scarta. A sto point metto via questa. Siamo quasi a metà del terzo piano del dungeon. Pesca. Pescola. Pesca pesca. Che brutti siete qua. Questa è bellina. Questa sarebbe buona per Pialala. Ma se no che ce faccio? Questa è bellina. Ma insomma relativamente. Coppia di gnolla. La coppia di gnolli? Stavo vedendo. La coppia di gnolli. Che brutta rega. E io questa me la giocare qua. Che brutta. Che brutta. Che brutta. Fantastico. Questa sarebbe carina. Collega tutto. Ma sto due tesori. Il chess pool. Io sto pronto quando vuoi. No. Andre metta troppo. Andre metta troppo. Quindi mi devo cambiare strategia volante come si dice. Volante. Allora io metto questa. Dal momento che lì è tutto diverso. Io mi gioco il chess pool qui sull'angolino. Ma io che fa tutto dei fori. Questa fa un botto dei fori. L'ho fatta dei fori. E' subesciato. Che fa tutto dei fori. E scarto una. Che devo fa? To. Giù 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 giù. Vai. Pesca. Se pescola. Arsarola. Arsalora. 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 Madonna questa però. Questa è molto brutta. No brutta. Brutta 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 brutta. Eh questo ci non metto a forza. Brutta brutta. Vabbè. Per forza. Se mai mi pioca la carta. Che devo fare. Continuiamo ad investire in. Uzz. In gelatine. In Uzz. In Uzi. E questa la scarto. E investo in Uzi. Così. E questo è. Brutto brutto brutto. Ci siamo. Abbiamo finito di costruire anche il terzo piano del dungeon. Con grosse difficoltà. Gli architetti stanno trimbolando il giusto. E vediamo che succede. Allora io ho esattamente. Uno. Esatto. Due. Tre. Quattro. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Io. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Dieci. Quindi stavolta. Cominci prima con i soldini. Io ho dieci. Che. Tredici. Insomma. Non è male. A lei. Tredici. Non è male. Allora. Lei. Il problema è che non c'è chi. Non c'è chi mi serva a me lì. Eh capito. Manca a me. Porca cazzozza. Manca a me. Perché io potrei investire. Investire. Lì. Non me sarebbe. Non sarebbe male. Non sarebbe male. Per cui investo in dieci. Per cui vado a tre. E mi prendo il punticino più due. Eh non è male ragazzi. Due slime. Il punticino me lo metto esattamente qua. Zizi. Che corrisponde qua. E i due slime. Li metto insieme. A Yuzzi. Sperando. A me non tanto qui non viene qua la carta. Ormai questi se levano. Ormai questi se levano. Però insomma almeno tanto. Tocca a me. Tocca a te. E vediamo quello che succede. Allora. Io spendo prima quattro. Sì. E mi prendo uno gnoll. Uno gnolletto. Qui sarebbe la coppia dei gnoll nel dungeon. In teoria ce ne avrei pure solo due. Quindi ce ne avrei pure poca roba. Vabbè. Quello che c'hai c'hai. Poi tocca ancora a me. E spendo sei stavolta. Ma stavolta. Mi sa che vado a fare una cappellata. Però. Tutto. E quindi rimango io primo giocatore. Sì. Perché qua. Questo l'ho messo qua sbagliando. Invece me lo devo mettere qui. Quindi sono costretto a metterlo qua. Però me ne pio due in una botta sola. Eh sì. Eh sì. Capito perché mo' è brutta? Eh sì. Mo' me ne pio due in una botta sola. Eh sì. Quindi mo' ce n'ho uno, due, tre, quattro. Mo' ce n'ho quattro. Tu ce n'hai quattro. Pure tu muovi. Le forzieri quattro. Quattro pari. Attenzione. Quattro pari. Non è ancora detta. Non è ancora detta. Molto a cassa tette. Molto a cassa tette. Compre forzieri. E tu non paghi più niente. Per cui io scendo giù e mi fermo. Vediamo mo' che cosa fare. Allora. A te sta carta te potrebbe fare comodo. Uno. Uno. Eh sì. Come se ti fa comodo qua la carta? Pidietela. Perché se ti fa comodo a te. A me mi farebbe comodo solo qua. Però te la leverei a te. Capito come? Eh. E allora me la pio. E allora. Quella ti faceva fare molti puntini a te. A me lo piuttosto. Coppia di gnolle non ce l'avrò mai. No. Questo. Questo no. Nemmeno. E' brutta come quella di prima. Praticamente. A me mi fa solo questo. Purtroppo. Per cui devo puntare. È diverso. La possibilità di beccare qualche gnolle dopo. Diverso tutto diverso. Quindi prendo questa. Perché tanto quella non riuscirò mai a fare. Però è stato qualcosa. Ok. Questa si scarta e non si rifilla. Non è vero? Stavolta no. Però il mercato sì però. Si fa con quello che c'è. Diceva quello. Il mercatino sì. Ultimo round. A me mi ha tolto diversi punti. Eh con quella carta sì. Con quella carta sì. Lui se ne fa un po' ma a me me l'ha tolti. C'è male. Allora. Ultimo round. Ultimo anno ecco. Diciamo così. 3. 4. 5. Ci abbiamo l'ultimo piano del dungeon. E poi andiamo chiaramente a fare il conteggio di punti. Di fine partita. Come vedete gioca anche abbastanza veloce ragazzi. Sì. Vero. Allora. Sei sempre tu a iniziare per primo? Yes. Perché sono primo giocador. Sei veramente una bestia. Come giocador. Sei veramente una bestia. Anche un brutto esemplare. Trappolò se come se piovesse. E anche un brutto esemplare di bestia. Di bestia. Sei proprio un coboldo pelato. Sei proprio un coboldo pelato. E anche brutto. Tra le altre cose la mia uscita del dungeon dovrebbe stare qua. Perché io mi devo. Mi devo anche in qualche modo. No io mi sono chiuso. Mura dell'uscita. Mi sono chiuso. Cioè praticamente. No no. Dall'entrata viaggio bene. Ma l'uscita non c'è sta. Ma l'uscita praticamente non c'è sta. Tu entri ma nel dungeon non esci più. Entri ma se esce. Non esci più. Se esce. Capito. Ecco c'è che stazione. C'è stazione. C'è stazione. Purtroppo. Però c'è un passaggio seguito. Attenzione. Certo. Potrebbe essere utile. Eh sì. Se ci arrivo a pigliarlo. Ok. Se ci arrivo a pigliarlo. Non ci stanno gnolle. Vero no. Manca pagare. No. Solo trappole. Passaggio seguito. E un punto. Sì. Un punto potenza. Che sfighetta. Eh qui non c'ho quello. Che sfiga. Purtroppo ho perso. C'ho perso. Non riesco a fare quello. Quindi quello non lo riesco a fare. Un po' di sfiga. Eh ma ci sarebbe una cosa potenziata. Con la cussa là. Allora sia più o meno. Ne cambierebbe poco. Ok. Quindi quello lo mettiamo là dopo. Vabbè. Guarda che roba sfigata. Io mi gioco questa. Che roba sfigata. Mi gioco questa. Tanto perso per perso. No. Perso per perso. Bella norega. Eh questa mi piace. Questa non è males. Carina. Discretamente bava. Aspetta. Dov'è la mia uscita là? Ok. Io me la gioco così. Oh. E mi gioco il crossing. Tu praticamente ti sei fatto il dungeon con solo slime. 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 Slime è. Slime di giro. Slime è cubicilatenoso. Esatto. E che cacchio. Eh ho capito. Mi piacciono. Ok. Poi ti vado a scartare. Ti vado a scartare. Ma sai una volta questa però. ti vado a scartare questa. Tanto è uguale. Vai. Pesco. Pesco. Non male direbbe. Quel tale direbbe non male. Insomma. Questa pure non è male ma c'è sempre quel disgrazia. Insomma. 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 Qui come la metti a metti è brutta. È brutta. Questa non è male però. Mi perdo sta possibilità che. È abbastanza ignorante. Ma sette ci devo andare però Cristo. Pro colombo. Per forza. Per forza. Però. Mi gioco questa. Mi può convenire. Mi può convenire. Mi gioco questa. Mi può convenire. Mi può convenire forse sì. Che faccio. Dipende. Perché l'uscita del dungeon è da sta parte. Hai capito? Bella questa. Questo scarto. L'uscita del dungeon. A me mi è rimasta la stanza per l'uscita. Mi gioco qua. Ok. Poi scartiamo. Questa. In uno, due, tre e quattro. Vai. Pesca. Giusto. Questa è bella. Questa me pasa. Questa me pasa. Questa me pase. A me un po' meno. Sarebbero perfette. Trick team. Ma c'è questo che rompe le ballers. A me un po' meno. Manco poco. Rompe le ballers questo. Manco poco. Però mi aiuterebbe. Mi aiuterebbe. Però si riesca a andare lì. In qualche modo. Mi aiuterebbe in qualche modo. Fa qualche punticino in più. Pochi eh. Però. Però. Tanto a sto punto. Tanto a sto punto. Siamo a nove. Siamo a nove. Vabbè. Quando vuoi. Io ce l'ho pronto. E' tosta sta questione. Perché poi. Se magari. Proviamo così. Ok. E io mi gioco. Ne devo scartare una. Scartiamo una. Scartiamo questa. Vai. Ultima stanza. Houston. Yes. E niente questa. Io direi che gioco questa. Un altro slime. Un altro woods. Così. Per forza questa. Ragazzi. Ha slime e woods. Come se piovesse. E c'è la scarto. E ci mettiamo l'uscita pure. E ci mettiamo pure l'uscita. La mia uscita. Esattamente qua. E questa la scarto. Che non c'è un'uscita. Praticamente. Cioè. No. Ho fatto bene all'entrata. Poi dopo. Andando verso l'uscita. Ma che non fanno? Cazzo sta l'uscita. E non c'è. Abbiamo fatto un taggiano. Riccolo cieco. È tosta. È tosta. Ok? Yes. Conteggio. Io direi che adesso. Con calma. Prima il. Hai i potenti soldi. Già. Perché dobbiamo spendere. Io ho. Quattro. Uno. Due. Tre. Quattro. Tre. Sette. Otto. Dieci. Undici. Dodici. Sedici. Fresca. Io ho. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Sedici. No. Sedici. E dodici. Per cui inizierei per primo. Sa. Sa. Eh. Questo non è male. Eh. Io infatti direi. Io so qua. Sì. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Te sto sopra. Mi sa che rinizio anche per te. Sei sempre venuto. E mi prendo. Il passaggio segreto. Sì. Ora. Il passaggio segreto. Lo metti dove vuoi. Lo posso anche mettere qua. Che è verso l'esterno. Esatto. Esatto. Mi fa fare tre punti in più. Esatto. Che non sono proprio uno schifo. Esatto. Che non sono uno schifo. Ma penso che è la cosa più logica. Per cui mi metto il passaggio segreto verso l'esterno. Sì. Ok? Adesso. Se tu decidessi di non prendere niente e vai qui tu saresti il primo giocatore a fine partita e prendi nove punti. E fatti è quello che faccio. E fatti. Lo sapevo. Anche perché non c'ho niente che mi interessa. Per cui. Quindi tu sei il primo giocatore. Quindi tu prenderesti nove. E io prendo sei. E poi le potete faccio un po'. E prendo sette. Che mi servono entrambe. E ti prendi un'altra trappola. E ti prendi anche un punto. L'ultima trappola che mi serve a me. E me fa fare quindici punti. Eh te credo. E in più metto la stellina qua. Che me ne fa fare un altro in più. Sì. Ma credo che anche io forse ho fatto tutto. Io solo no. Io solo il cubo gelatinoso qua non ce l'ho. Io dovrei aver fatto tutto. Quindi tu faresti i venti e i quattordici. Eh non si sa. Non si sa. Adesso. 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 Come vedete. La metto dove pare. Che c'è qualcosa da dire. Tanto uguale. In questo caso. I due dungeon li abbiamo completati. Come vedete. Bellissimi. Due. Tre. Quattro. Che posso spendere. Ma a me. Ma a che me serve. Non mi serve niente. Ah beh sì. Che posso spendere. Ma non mi serve a niente. Non mi serve a niente. Quindi vado. Che succede ragazzi. Allora. I due dungeon sono completati. Come dite. Tanto graficamente è molto facile. Fermo. È veramente. La grafica del role player. Che io role player amo. Sì sì sì. Però stiamo in trincare anche quello. Ah sì sì. Già. Giustamente. Adesso. Oggi ci siamo fatti. Chiaramente. Sto spine architects. Ma. Ma ragionavamo. Sulla possibilità di farvi anche. No. Ragionavamo. Faremo anche role player. Esatto. E poi dopo non si sa mai più avanti. Ci sono novità. E le vedrete. Le scoprirete. On the road. Esatto. Allora. I nostri dungeon. Sono conclusi. Siccome per fare il conteggio dei punti. Ci vuole un po'. Esatto. Adesso ci mettiamo di buona lena. Facciamo il conteggio dei punti. Piano piano. E poi. Vi diciamo. Voce per voce. Quello che è successo. E i punti. E chi ha vinto questa partita. A stone spine. Sento l'odore de cefo. Che c'ha be' puntini lì. Non lo so. Vedo tutte uscite verso. Non lo so. Verso non so dove. Ci vediamo fra qualche secondo. Con i punti. Yes. Ma non le sutura. I punti. Eccoci tornati. Gran partita. Sì sì. Gran partitone. Gran partita. Perché. Non i nostri migliori punteggi. Diciamo. Non i nostri migliori punteggi. Perché avevamo fatto molti più punti. Nelle altre partite. Esatto. Però siamo risicati. Siamo risicati. È vero. È vero. È vero. Perché adesso. Con questa risicata. O rosicata. Ripende poi. Ripende da chi io. Ovviamente vediamo come sono andati i punteggi. Allora andiamo a vedere il final scoring. Sul final priority. Che praticamente sarebbe. Questo. Questo qua. Game end. Io ovviamente avevo più punti. Perché avevo finito per primo. Esatto. Per cui iniziamo con nove punti. Io sei. Il goal card. Le goal card. Facciamola. Ve le dico. Avevamo sedici punti. Anzi scusa. Quindici punti. Quattro punti. Quattro punti. Il sub chef. No. Ah questa è la goal card. Questa qua. Io avevo quindici punti. Perché. Che ero primo. Perché se no avevamo quattro tesori per uno. Ma chi ha. Però in realtà avevo quindici punti. E lui ne aveva nove. Qua avevo rosicchiato. Quindici punti. Per il sub chef. Più quattro e quattro. Che sono le loro. Le sue carte. Esatto. Il suo goal. Per cui. Ventitré punti. E io ne ho fatti ventisei. Eh già. Per cui. Ho recuperato qualcosina. Nove punti di stelle. Per cui. Diciamo la fama. All'interno del dungeon. Tutte stelline. Che io. Invece zero. E lì qui. Ma ero rosicchiato. Perché lui ce l'aveva più. Ma ce l'aveva pure negative. E poi. Ovviamente. La cosa. Che ha determinato. Ha determinato. Dungeon Pazzo. Praticamente. Il punteggio finale. Di questa partita. Sono stati collegamenti. Fra l'uscita. Anzi. Fra l'entrata. E l'uscita. Con le varie. Ovviamente. Con le varie strade. Che si intersecano. All'interno del dungeon. Dove. Attenzione. Il sub chef. Tra chi. Tra quelle che si è collegate. Tra quelle che si è collegate. Tra quelle che si è uscita. E anche insieme. Tra tutte insieme. Fra l'entrata e l'uscita. Tutte collegate insieme. Il sub chef. Si è fatto esattamente. 41 punti. E io ne ho fatti. 33. Per cui vince questa partita. Con pochissimo distacco. Dovuto. Solamente dal fatto. Che l'ultimo. 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 completamente. Dovete morire qua dentro. Dovete morire qua dentro. Chiunque ci sia. Deve morire dentro. E qui non sono riuscito a sviluppare. Deve ammurare dentro. Le mie strade. Assoluto. Perché se no. Cambiava l'aria. Ma purtroppo. È andata così. Vince per 88. 83. Il sub chef. A stone. Spine. Architects. One. Per cui. Ecco. È andata così. Ragazzi. Il gioco è fantastico. Veramente bello. Perché. È vero. Dovete gestire. Chiaramente. Tutto quello che avete a disposizione. Le vostre carte. Non solo. Come dicevo. La vostra carta progetto. Esatto. Che tu poi. L'hai fatta tutta. L'ho realizzata completamente. Tutta. E io. Me ne mancava una. Esatto. Ha mancato una stanza. 2014. Però io diciamo. Ieri ho passato nettamente in battaglia. All'inizio sì. Sulla prima parte. Con i primi punti. Esatto. Ma poi. Diciamo. Ma devastato. Perché fondamentalmente. L'uscita con legale. L'entrata e l'uscita. Io. L'entrata tranquilli. Fino a un certo. Fino al terzo piano tranquilli. Poi la murata di retrovivi. La murata di voretti quelli. No vabbè. Sono stati murati vivi. E gli altri posti. Ma. Ma che favo. Niente. Per cui. 88.83. Per Superchef. In questa partitozza. Veramente. Bello. Sì. Veramente bello. Bellino. Se respira proprio l'aria. Di costruzione del dungeon. A tutti gli effetti. Perché dovete. Sviluppare il vostro gioco. In maniera molto. Cioè. Dovete centellinare. Veramente le carte. E soprattutto. Anche saper ottimizzare. Le carte. Quello. E quello. Che chiaramente. Sono quelle che poi. Vi fanno fare un sacco di punti. In più a fine partita. Dovete assolutamente molto bravi. Sì. Poi puoi fare punti. In vari modi. È bello sta cosina. Cioè. Beh. Ecco qua. C'è la possibilità di fare. Pronti in. Tantità che vuole. Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei modi diversi. Per cui insomma. Devo dire che c'è. Molto molto varia. È molto strategico. Da sto punto di vista. Perché ti permette chiaramente. Di individuare. Dove andare. Praticamente. A crearti. La zona che ti dà più punti. Ci sono. L'ultima volta. Io ho fatto. Solo con una carta. Ci ho fatto tipo. 32. 32 punti. Eh so pochi. 32 punti. Perché ero riuscito a ottimizzare. Infatti l'ultima volta. Hai arrivato 111 punti. 111 punti l'ultima partita. E niente. Ragazzi. Questa è la Store Spine Architects. Della Thunder Wars. Se vi è piaciuto il gioco. Così come è piaciuto a noi. Ovviamente. Perché è veramente delizioso. A me è piaciuto tantissimo. Molto molto bellino. La partita tira l'altra. Perché poi è una partita anche abbastanza veloce. Sì. Non è tra la tiri via in due giocatori. Sì. Poi magari. Diciamo. Alla fine. Giocando col draft. E si gioca tutti insieme. Il downtime è veramente molto basso. Poi come in ultimi giochi che ha fatto Garfield. Il primo anno è senza orario. Il secondo anno è senza orario. Giocando in due. Chiaramente in due. Non c'è insomma. Però. Comunque è veramente figo. Molto bellino. Niente. Grazie al subchef per essere stato di nuovo. Grazie a te Preppe. Hai perso. Non ho perso. Ha perso l'architetto. L'architetto si è proprio perso mezzo al daglio. Se è murato pure lui dentro. Se è murato. Se è murato. Se è murato. Ma dove si esce da qua? E' un cazzonesco. Vabbè. È un pirla. È un pirlaccio. Vi ricordo. Se non l'avete ancora fatto. Di iscrivervi al canale. Cliccare sulla campanellina. Per attivare le notifiche. E se volete supportarci. O fricciù. Caffè. Potete farlo. Grazie all'abbonamento. Su YouTube. Cliccando abbonati. Non fate gli architetti. Che se murano dentro. Che se murano dentro. Come ho fatto io. Per cui. Mi raccomando. Grazie ancora a tutti quanti. E come sempre. Ci vediamo al prossimo video. Al prossimo gameplay. O quando me pare. Ciao.